Musica Bella a tutti ragazzi, io sono Grado, sono qua oggi per portare questo nuovo video di Scania del clan Oggi ragazzi siamo qua con un altro gameplay della nostra Record Week di questa fantastica settimana Composta da tutti, non da tutti, però dalla maggior parte dei nostri record Quindi ogni giorno vi porteremo due record, una alle 13, una alle 18 Oggi che cosa vi porto? Vi porto il nuclear più veloce dallo start in core Perché c'era quello mi sembra in dominio veterano fatto a ribo, questo è quello più veloce in core Quindi il nucleo vita 100% E' fatto dal nostro caro OTA TF IOT La mappa era Nuketown, modalità deathmatch a squadre L'arma era una N94, è fatto in 111 secondi dallo start Mentre dalla prima kill sono solamente 104 secondi Quindi ragazzi potete ben capire che comunque fare un nuclear in core così veloce dallo start Non è assolutamente facile Perché comunque c'è il tempo ovviamente di muoversi Perdi ovviamente almeno 10 secondi Anche se la mappa è davvero ristretta perché è Nuketown Comunque una decina di secondi li perdi Perché dal tuo spawn devi andare almeno in mid per fare le prime kill Comunque Riot ovviamente in questo gameplay si è destriciato davvero al meglio E è riuscito a portare a casa davvero questo gran gameplay E quindi niente ragazzi ovviamente oggi non ho un argomento Perché è inutile in 111 secondi portarvi un argomento Anche perché non ci riuscirei Quindi niente sono solo qua a dirvi il gameplay Vi dico appunto di lasciare un like o un commento Rimanere connessi perché questa settimana ragazzi stiamo portando davvero dei gameplay assurdi Quindi lasciate davvero tanti like Iscrivetevi Che vogliamo arrivare a questi cavolo di 30k Che ci mancano tipo 700 iscritti o qualcosa del genere E quindi ci vogliamo arrivare assolutamente Non dico in questa settimana Però comunque dateci una mano Quindi se non siete iscritti iscrivetevi Lasciate un like o un commento Qua da Grados è tutto Bella Non ti piace il GTF Ti ammazzati Ti gasparati Quando arrivo devi farmi passare